Dopo lo scorso weekend altra giornata splendida sotto il profilo meteo per il trofeo Jean Bertrand. Sì, adesso ci aspettiamo che il vento salga magari verso mezzogiorno l'una, un pochino da ponente e quindi completare una seconda giornata di belle regate come ieri. Presenti equipaggi di livello mondiale? Sì, ci sono due classi, una classe Snipe che è una barca disegnata negli anni 20-30 quindi storica e poi ci sono i 470 che invece è classe olimpica e c'è la fortuna di avere tra questi 4 equipaggi di primario livello internazionale che hanno partecipato alle principali manifestazioni tipo i campionati del mondo o addirittura olimpiadi quindi su quella classe il livello è davvero alto. Quali qualità servono per primeggiare in questa classe? Beh, le qualità come in ogni classe bisogna avere sempre una base di tattica e comunque stare bene attenti al campo di regata e saper portare bene la barca che a noi ci manca ancora un po' data la poca esperienza. Allenamenti quando si può. Io studio a Pisa quindi non torno tutti i weekend qua quindi quando abbiamo tempo tanto per... noi siamo scesi appunto da 4-20 perché comunque richiede allenamento costante tutte le settimane come facciamo l'anno scorso e adesso non possiamo quindi abbiamo scelto una classe un pochettino più... cioè meno faticosa. Prima di una gara del genere è importante anche l'alimentazione? Sì, sicuro perché specialmente noi che siamo timonieri dobbiamo essere in forma col peso, non dobbiamo essere troppo pesanti e quindi spesso durante l'anno si fa diverse diete per mantenere il peso. Conta l'affettamento che abbiamo io e Simo insieme in barca alla fine abbiamo iniziato già da 14 anni col 4-20 abbiamo fatto due stagioni col 4-20 dopo siamo passati subito al 4-70 che è una classe olimpica perciò le ambizioni erano alte abbiamo subito incominciato da giovani con questa classe.